ciao a tutti oggi volevo farvi un tutorial che mi avete richiesto sul chiacchierino ad ago l'avevo già pubblicato un video che però mi è stato detto non si vedeva bene quindi ho deciso di rifarlo con un altro tipo di filo e col disegno scritto meglio dunque il chiacchierino ad ago si compone anche lui come il chiacchierino navetta da anelli e archi nodi e pippiolini cambiando ovviamente il numero di nodi e la composizione tra anelli e archi si cambiano tutti i disegni col chiacchierino ad ago bisogna stare molto attenti all'ago l'ago deve essere tutto liscio e non deve avere nella parte della cruna non deve essere più largo e il filo deve essere adatto al tipo di ago utilizzato perché se si utilizza un ago troppo grosso quando poi si toglie tutto il lavoro dall'ago resta troppo molle quindi partiamo infilando l'ago scegliendo appunto l'ago giusto per il tipo di filo lasciamo del filo dalla parte dell'ago in questo modo in base al tipo di lavoro che alla grandezza del tipo di lavoro che dobbiamo fare e partiamo dal primo anello sono quattro nodi quindi il nodo si compone in questo modo il filo si prende con l'indice si gira in questo modo e si fa passare l'ago da questa parte e la prima metà del nodo è fatta per la seconda metà del nodo bisogna prendere il filo da sotto e girare verso di voi l'indice in quest'altro modo e l'ago passa all'interno dell'asola che si è creata e questo è il primo nodo adesso faccio la seconda il secondo nodo quindi la prima metà del nodo in questo modo da sopra si prende il filo così da sopra si gira in questo modo e si passa nell'asola si lascia il filo e si gira molto vicino al primo nodo fatto e questa è la prima metà del secondo nodo la seconda metà del nodo si fa in questo modo qui quindi si prende il filo così si passa l'indice sotto e lo si gira verso di voi in questo modo e si fa passare l'ago nell'asola così e questa è la seconda metà del nodo e questi sono i primi due nodi ora facciamo anche gli altri due e da disegno quattro nodi e il primo pippiolino qui quindi il pippiolino si esegue in questo modo la prima metà del nodo che si fa in questo modo non la si tira vicino agli altri nodi ma si lascia uno spazio e si lascia leggermente lontano si fa la seconda metà del nodo e si tira vicino e questo il pippiolino ora si prosegue con gli altri sette nodi un altro pippiolino e altri due nodi 1 2 3 4 6 7 il pippiolino e i due nodi finali adesso tutti i nodi sono sul lago per fare l'anello perché siamo partiti dal primo anello dobbiamo far scivolare tutti i nodi dal lago al filo che è stato infilato nel lago quindi si fanno scivolare tutti i nodi in questo modo questo è il filo che passa all'interno dei nodi che erano prima sul lago per fare l'anello si infila lago all'interno dell'asola che si era creata si avvicinano le due parti in questo modo e si tira il filo e il primo anello il primo anello è fatto per bloccare il lavoro facciamo un nodo semplice così 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 siamo sicuri che non si sciolga adesso per creare per fare il secondo anello ci sono due nodi un pippiolino ci si attacca al pippiolino precedente sette nodi il pippiolino sette nodi un altro pippiolino e due nodi quindi faccio i due nodi e vediamo come ci si unisce al pippiolino dell'anello precedente ci sono due modi per potersi unire o direttamente con l'ago passando passando all'interno del pippiolino prendendo il filo e estraendo il filo così oppure prendendo un uncinetto fine oppure io utilizzo uno spillo si fa passare all'interno del del pippiolino si prende il filo e lo si passa sul lago quindi proseguo con gli altri sette nodi chiudiamo anche questo anello quindi facciamo passare tutto il filo all'interno si fa passare all'interno di quest'asola l'ago e si chiude tutto l'anello fa il nodo e si prosegue con il terzo anello che sono due nodi ci si attacca il pippiolino del secondo anello sette nodi pippiolino e quattro nodi chiudo anche l'ultimo dei tre anelli giro il lavoro e procedo con l'arco che sono dieci nodi quindi metto l'ago vicino all'ultimo nodo fatto dell'ultimo anello e inizio a fare i nodi 3 4 5 6 7 8 9 9 e 10 e i nodi dell'arco ormai li abbiamo fatti i nodi dell'arco li abbiamo fatti sul lago per fare l'arco dobbiamo sfilare l'ago far passare tutto il filo lo lasciamo così e questo è l'arco quindi chiudiamo anche l'arco con un nodino rigiriamo il lavoro e proseguiamo con il resto del lavoro nello stesso identico modo ci vediamo all'ultimo anello dell'ultimo trifoglio all'ultimo 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 e all'ultimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ho fatto tutti e tre i trifogli. Ho fatto anche i primi due anelli del quarto trifoglio, ho fatto già i due nodi, mi sono già attaccata al pippiolino del penultimo anello. Ho già fatto i sette nodi e ora mi devo attaccare al primo pippiolino del primo anello. Quindi prendo il lavoro e mi attacco al primo anello, al primo pippiolino del primo anello. In questo modo. Ok. Ora proseguo con gli ultimi quattro nodi e chiudo l'anello. Ok. Ok. Chiuso l'ultimo anello, ci manca di fare l'ultimo arco. Finito l'ultimo arco lo si va a bloccare negli ultimi in questi nodi qui, così. Si fa passare tutto il filo, si fa un nodo semplice. E poi un nodo doppio, in questo modo, quindi si passa una volta, si passa la seconda volta e poi si tira facendo formare questi due cappietti e così siano sicuri che non si scioglie. Tagliamo il filo a filo del nodo. Questo è il lavoro finito, spero che il video vi sia stato utile, se vi è piaciuto scrivetemelo nei commenti. Vi aspetto anche sulla mia pagina Facebook. Al prossimo video. Ciao!